Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, questo è il trentatreesimo episodio della mia serie survival di Minecraft. So che dietro di me c'è un ventilatore e che probabilmente se non ve l'avessi detto non l'avreste nemmeno notato, però mi fa fatica a spostarlo. Scusatemi ma sono distrutto fisicamente e mi fa fatica. È una motivazione? No, però mi fa fatica e quindi non importa, cioè tanto non danno. Comunque in questo episodio cosa voglio fare? Probabilmente molti di voi mi ammazzeranno, ma voglio tornare un po' a esplorare. Perché? Perché voglio cercare i ciliegi. Questi? Che è successo qua? No, ricordavo di dirlo, ma so io questo scheletro, vabbè. Comunque sia voglio andare appunto a cercare i ciliegi e, perché no, magari anche le cose nuove. Quello lì ha un grass block? Dov'è quel bartender di Enderman? Enderman è venito? Volevo appunto cercare ciliegi e soprattutto ciliegi e magari, non lo so, anche qualcosina di nuovo o la... Ecco, potrei prendermi e portarmi una spazzola per farmi tipo la... come si chiama? La... cioè per spolverare tipo la ghiaia sospetta, sabbia sospetta, come si chiamavano? E vabbè, quelle cose lì. E poi insomma, trovare un po' di cose magari nuove, non so se anche un cammello. Allora, io mi porto magari delle lid, anche se probabilmente... Boh, io me le porto, sì, dai. Poi mi porto, allora, il secchio di latte me lo porto. Un secchio... sì, uno tanto per, ma probabilmente non mi servirà nemmeno. Poi mi porto le cesoie, che sono quasi finite, quindi ce ne facciamo delle altre. Ragazzi, essenzialmente c'è questa esplorazione qua, è solo per il... per i ciliegi. Quindi, perché voglio fare cose a breve, che vi ho detto già negli scorsi episodi, prima di dire, eh, la è copiata da qualcun altro, ve l'ho già detto negli scorsi episodi, insomma, ehm, cosa voglio fare. E mi porto, allora, questo. Mi porto il cannocchiale, che è qua, giusto? Eccolo qua. Mi porto una bussola, un letto, e che altro? Ah, una roba con tocco di velluto. Sì, qualcosa con tocco di velluto, sì. Cosa abbiamo? Questa pala? Sennò abbiamo quest'altra pala, mi porto questa. Anzi, io direi, no, però un piccone, forse ancora non posso incantarlo, un piccone con tocco di velluto. Vabbè, ci prendiamo questa pala qua di diamante con tocco di velluto, e speriamo di non trovare niente, cioè, niente per cui serve al piccone, diciamo. Allora, rimane adesso da capire la direzione, allora un attimo, intanto buttiamo qua le ossa. Comunque rimane appunto da capire la direzione in cui andare, perché? Ok, allora, là siamo andati, abbiamo fatto il giro, siamo andati tutto in là, abbiamo trovato la neve, poi siamo andati in là verso la mese, abbiamo seguito quel corso d'acqua là, quindi possiamo continuare o di là, o di là, oppure di qua magari, andare avanti di qua. Non mi sembra di essere andato avanti di qua, credo, credo di no, andare avanti tipo in là. Allora, potremmo andare... non lo so, ragazzi. Proviamo ad andare magari avanti di là? Vediamo cosa troviamo? Non lo so, perché in realtà secondo me andando avanti in là troviamo la stessa cosa che abbiamo trovato andando di là e andando molto più avanti, però boh, sì, possiamo anche provare ad andare in qua. Ma sì. Che altro mi posso portare? Ah no, lasciamo magari il grano là alla farm di mucche e niente, basta. Poi in teoria possiamo partire, spero. Comunque le cose che credo mi servano ce le ho, quindi sì, basta lasciare il grano e poi possiamo partire. Tra l'altro guardate già quanto ci babbiamo, potremmo anche smettere di mangiare carote. Ok, let's go, allora. Possiamo andare. Incominciamo la nostra missione di ricerca dei cilievi. Spero di trovarli presto, sinceramente, anche perché non vorrei fare chissà quanta strada, cioè sicuramente dovremmo andare un po' avanti. Però ecco, non voglio esplorare per tipo d'oltre episodi, anzi, probabilmente nel caso dovessero volerci, cioè dovessi volerci più di un episodio, a quel punto taglierei, o taglio le parti inutili e magari o lo faccio usare un po' di più, non lo so, cioè, però ecco, non voglio usare più di un episodio. Anche perché sono andato a esplorare per un monte di episodi, vi sarete rotti le scatole anche voi. La barca, la barca, la barca, mi serve la barca. Vabbè, da sto punto aspettiamo che faccio notte e dormiamo. E ora si può ripartire. Potremo seguire il corso d'acqua. Sì, seguiamo il corso d'acqua, cioè andiamo comunque in questa direzione. Però seguiamo il corso d'acqua, così più o meno ritorneremo, cioè, prima o poi ritorneremo a casa, spero. Anzioniamo proprio così con la barca, finché qualcosa non ci sbarerà la strada. Non mi sono fatto la spazzola, spero che non mi serva, perché se no me la farò boh sul momento. Bambù, tanto bambù, potrei prendermi un po' di pozzol. Me ne prendo un altro po', non so per quando mi servirà, però intanto me lo posso prendere. E allora, magari un posto, un punto in cui non ci sono troppi bambù, che se no faccio strage. Ok, prendiamone un po' da qua. Magari non tanto, solo per averne un po'. Non lo so. Ora non... forse non proprio uno stack? No, meno. Quanto ne abbiamo adesso? 23. Considerando quello che abbiamo anche nella base, 23 ci dovrebbero bastare. Magari un po' qua, visto che non ci sono tanti bambù, ne prendiamo un po' qui, e poi direi anche basta. Sì, perché poi si deve... Ok, 39. Poi volevo provare, tipo, a prendere questa erba marina. Se la prendo così con tocco di velluto, no. Ok, non me l'ha data, giusto? No. Se invece la prendo, tipo, con le cesoie, me la dà... Proviamo, tipo, questa qua, che poi non è fondamentale, cioè... Più che altro per curiosità. Ok, stavolta me l'ha data. Oh, me l'ha data, l'avevo vista. Sì, è finita? Non c'è più? Non c'è più. Tipo così. Non me la dà? Eccola. Eccola. Ok, così me la dà l'erba acquatica. Lì perché c'è la mela? Boh, prendiamola, degli stick prendiamoli. E me la dà. Però, diciamo che in realtà non è nemmeno... Ah, eccola l'altra. Non è nemmeno così tanto utile, perché alla fine ho visto che basta spammare bon meal nell'acqua e... a posto così. Ok, andiamo. Ragazzi, attenzione. Fiori? Questi sono fiori. E... Allora, però non sono di ciliegio, sono semplicemente fiori così. Li posso prendere così con tocco di velluto? Me l'ha dati? Cosa sono? Foglie di azalea fiorite. Ottimo. E... Questo? No, ragazzi. Ah, l'azalea, no? Pensavo fosse tipo il moss... Come si chiama? Il muschio. Vabbè, proviamo a prenderlo senza il tocco di velluto per vedere se posso prenderle o comunque no. Ok. E se invece le prendo con le cesoie, giusto per capire, eh, raga, perché queste cose io ancora non le conosco, e con le cesoie invece me le dà. Perfetto. Quindi cesoie o... o tocco di velluto possiamo prenderle. Allora, boh, prendiamole un po', prendiamole. Tanto un po' di foglie in realtà non ci servono, però queste azalee e fiori, come si chiamano, queste magari sì. Le prendiamo e ce le portiamo a casa perché possono servire per decorare. L'assù c'è un portale. Sono molto tentato di salirci, infatti adesso ci salirò. Magari non c'è nulla, eh, però, boh, vedo un portale e ci devo salire. Poi è pure figo attraversare queste foreste di bambini. Ah, poi ecco, mi interesserebbe anche il muschio. Magari forse ora non si potrà averlo subito. Ah, ci sono anche i panda, che carini! Non si potrà averlo subito, però ecco, in futuro vorrò avere... cioè, vorrò trovare anche il muschio. E non trovo più il portale. raga, ma sentite, ma lasciamo a perdere, ma chi se ne frega. Cioè, non è fondamentale. Dai, oggettivamente ne abbiamo trovati già un sacco. Cioè, semmeno è una perdita di tempo. Andiamo direttamente al nostro obiettivo, cioè i fiori di ciliegie. Cioè, i ciliegi, il bioma dei ciliegi in generale. Da giù, raga, c'è un'isola sospesa. Che bella che è. Fatemi vedere. Mi avvicino un attimo e vi faccio vedere me. Guardate che bella. Bellina. Ci sarebbe averla vicino al mondo, però questa qua è naturale, quindi non... Sarebbe difficile replicarla. Ora, torniamo alla barca, perché non mi voglio perdere. Anzi, in realtà, anche segnarsi le coordinate di casa non sarebbe una cattiva idea, non so perché ancora non l'ho fatta. Ah, ecco un'altra cosa che mi interessa per questa esplorazione, i fiori. Vorrei trovare dei fiori. Che cos'è questo buio? Perché è tutto così buio? Fiori nel senso, vabbè, non quelli che si trovano ovunque, magari fiori diversi che non si trovano spesso. Ma, scusatemi, come fa a essere già notte? Cioè, ho dormito ora, letteralmente. Come fa a essere di nuovo già notte? Ah, no, ok, forse non avevo dormito, mi sembrava solo che stesse diventando notte, ma poi non ho dormito. Ok, si spiega, no, perché sennò era preoccupante, cioè. Guardate com'è verde qua l'erba, quante erbetta c'è, queste cose qua le posso prendere? Allora, in realtà non mi servono, né mi interessano chissà quanto, però perché no, prendiamone alcune, boh. Vabbè, questa erba qua è normale, però... Cioè, non credo ci servirà mai, anche perché in caso abbiamo il bon meal, ma magari queste prendiamo alcune. Così mi sa che ho già l'inventario pieno, vero? No, quasi. Solo con roba della natura, erba e cose così. Vabbè, andiamo avanti, esploriamo, vediamo un po' se riusciamo a trovare quello che cerchiamo. Poi, raga, che voi sappiate, il bioma, quello con tutti i fiori, come si chiama, non mi ricordo, però esiste ancora? Perché mi ricordo, anni e anni fa, c'era questo bioma dove c'erano un sacco di fiori, però ora non so se esiste ancora come bioma, perché è tantissimo che non vedo più un monte di fiori insieme. fiori tutti diversi, boh. Qui, più che altro, dove si... Eh, cosa c'è? Cioè, qua si scende? No, vabbè, non importa, rimaniamo dove siamo. Di qua si può andare avanti, no? Qua c'è una caverna, uno strapiombo. Qua c'è qualcosa, tipo del, non lo so, del muschio, no, eh? No, bene. Come non detto, allora non ci interessa, continuiamo. Raga, vedo un portale. Sì, andiamo subito. Tanto questo qua, insomma, ci arriviamo bene. E lì anche dei fiori di azalea. Ottimo. Ricordiamo, però, anche, che in questo episodio voglio i ciliegi. Assolutamente. Quindi, qua non ne vedo, in realtà. Vabbè, intanto vediamo il portale. Ah, questa alberina è proprio nel mezzo, a caso. Ok. Vabbè, vediamo questo portale, anche se, ragazzi, volete scommettere che ci sono già passato? Ho paura di sì. Ho paura di esserci già passato quando ho visitato quel villaggio. E infatti, ci sono già passato. Come ho fatto a non accorgermi di questo, allora? Cioè, come ho fatto? Perché, non è che non l'ho preso perché non avevo le cesoie, proprio non mi ricordo di averlo mai trovato. Quindi vuol dire che sono stupido io. Eh, sì, per forza, sono stupido io. Allora, però, facciamo così. Le cesoie, teniamocele. Sì, perché, sì, potrebbero servire per altro. Usiamo il tocco di velluto, che tanto ce l'abbiamo e possiamo usufruirne. Ci prendiamo un po' di questi fiori qua di Azalea e che altro? Basta, direi. Cioè, tanto c'è questo qua che ci interessa. Ora, a sto punto, ragazzi, io tornerei... Da dov'è che siamo venuti noi? Dov'è la nostra barca? Siamo venuti da là, giusto? Sì. Potremo tornare in là, che ci dovrebbe essere il villaggio, e continuare a esplorare l'altra parte... Vabbè, faccio prima a farvelo vedere. Allora, se noi andiamo in qua, dovremmo trovare un villaggio andando avanti, in teoria, credo. Non vorrei dire cavolate, ma dovremmo trovare un villaggio. Arriviamo a quel villaggio. Bisogna arrivare lì e poi dovrei riuscire a orientarmi per fare quello che voglio fare io. Ecco da su il villaggio, dovrebbe essere quello, perfetto. Ora, da lì, qua ci sono dei fiori, ma no, non ci servono in realtà. Da lì dovremmo andare avanti, andare in là e arrivare fino a un altro portale del Nether, in teoria. Sempre in teoria, perché non vorrei che poi magari sbaglio e faccio figure di merda. Ok, ecco qua il portale e là il villaggio, quindi dovremmo continuare in là, perché in qua non siamo mai andati, di conseguenza, non avendo caricato ancora i chunk, potremmo trovare facilmente il bioma dei ciliegi. Speriamo più che altro, perché io dico sì, dai, li troviamo, dobbiamo trovarli in questo episodio, ma potrebbe volerci anche un monte per trovarli, anche veramente, cioè, sarebbero essere lontanissimi, chi lo sa, spero di no ovviamente. Allora, qua c'è una cosa molto brutta, perché quando ci sono stallattiti non c'è mai niente di bello, perché qua mi sa che si fa in un posto molto brutto, tipo, quanto dura questa caverna? Ok, ah no, finisce qua. Ok, pensavo molto peggio, dai, pensavo peggio. Vabbè, usciamo subito, tanto non ci interessa, anche quel carbone che c'era lì non ci serve per il momento, zucche, savana, tanta savana alla faccia della savana. Dove possiamo continuare qua? Perché là c'è tipo una bella grotta, ma qua dove possiamo continuare? Cioè l'acqua continua in là? No, raga, non c'ho voglia di andare in là. E vabbè, andiamo, magari arriveremo da qualche parte, chi lo sa? Speriamo? Questa zona qua è parecchio profonda, ma non mi sembra ci sia niente di interessante. No, ok, andiamo avanti di qua, vediamo cosa troviamo. Ma forse raga potremmo anche, no, 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 retro front e andiamo avanti di là. Poi se mai di qua ci passiamo per il ritorno oppure non ci passiamo mai, non lo so. Però per adesso il mio istinto mi decide di andare di là. Potrebbe essere un'idea migliore. Però è bello questo bacino, tanta roba. Raga, scusate, non per lamentarmi, ma quanto va avanti questa savana? Cioè, comunque, questo bioma di là c'è pianura, no? Continua anche la savana di là. Cioè, ma quanto va avanti? Io raga me la sento di andare in là. Vado in là. Mi sento così, sì, vado in là. Dai, 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 raga, sono fiducioso, sono fiducioso. Vi prego, datemi le ciliegie. No, altra giungla e bambù. Cioè, da adorare i bambù e adesso li odio, c'è solo quello. Non ci sono altri biomi nel mio mondo. Savana, pianura e giungla. Non c'è, anzi, savana e giungla. Basta, non c'è altro. Cioè, dai, ma vi prego, cosa devo fare? Dark, la foresta scura, come si chiama? I funghi. Mmm, quei blocchi lì con tocco di velluto non sarebbero per niente male, Anzi, sarebbero molto, molto, molto interessanti. Andiamo là e prendiamoli e vediamo se dopo c'è qualcosa di meglio, speriamo. Ancora nemmeno l'ombra di un ciliegio, raga, ma io sono fiducioso. Intanto si è trovato un villaggio, ottimo. Magari si trova qualcuno che ci scambia sapling, non penso proprio, però vediamo cosa c'è intanto nel villaggio. Ah, proprio un villaggio sul lago di lava, cioè non potevano trovare un posto migliore per costruirlo, forse vi va tutto a fuoco non vi lamentate, insomma. Ma una cesta, magari? Uno spin-in maiale. Ma una cesta non ce l'ha nessuno, raga, sono tutti poveri, anzi, mi sa che fra poco saranno ancora più poveri, perché qua sta prendendo fuoco ogni cosa. Cioè io provo anche a spengere lo fuoco, ma ragazzi, se costruite il villaggio su una cosa di lava è accidente a voi, è l'oggio e poi vi prende fuoco, no? Beh, io provo a salvarvi, ma voi metteteci un po' del vostro, non fate le cose così a caso, se no è peggio, si rovina tutto, ora casco anche ci vuole se scommettere, beh, infatti, spengere, vabbè ragazzi, sentite io che posso fare, però intanto ho trovato la cesta, ottimo, cosa c'è? Smeraldi, li prendiamo, patate, pane, mele, il resto non ci interessa, non abbiamo nemmeno più spazio nell'inventario, mi sa, e cos'è che non ho visto, forse questa parte, questa non l'ho vista, ma che bella casa che è questa, ma che carina, però, è una porta aperta, non ci sono stato, no mi sa di, vabbè, niente di che, a sto punto riprendiamo la nostra barca e continuiamo a esplorare seguendo lo fiume, che poi c'è raga, in realtà, per ora mi sa che non li troviamo, è già tantissimo che stiamo girando e non li troviamo, sti cavolo di ciliegi, e poi alla fine li danno i mercanti, io provo a cercare un altro po', in caso, poi male male, torno a casa e, e aspetto che mi spawni un mercante che mi dà i sapling, mi ci vorranno degli smeraldi, però vabbè, tanto ne abbiamo una quarantina per adesso, quindi dai, speriamo, ora intanto provo a fare un altro giro e poi in caso, torno a casa a mani vuote, ma spero che mi spawni un mercante, che poi volete scommettere, a parte qua faccio un po' di terraforming con la zappa, la pala con tocco di vellute, prendiamo un po' di grass block, però volete scommettere che se faccio così, aspetto che me lo dia il mercante, non spawneranno più mercanti, volete vedere? tanto lo so, cioè funziona sempre così, non so quanto andare avanti, raga, sinceramente, pure facendo notte, ma là c'è un portale, quindi ci andiamo subito e vediamo un po' cosa c'è, anzi, qua vedo anche un alveare, non so se prenderlo con tocco di vellute, devo aspettare che le api rientrino, come funziona? come faccio per farle rientrare? tipo se faccio così, con l'ascia forse, cosa devo fare per farle rientrare? se lo distruggo mi attaccano? non lo so, raga, aiuto, proviamo? no, forse non mi hanno, non mi vogliono uccidere, spero, è pure un lupetto, ok, no, ok, non credo mi vogliono uccidere, boh, proviamo a metterlo vicino a casa, dopo intanto andiamo verso il portale, due blocchi d'oro, molto interessante, questi li prendiamo subito, uno, non abbiamo spazio nell'inventario, leviamo, ma leviamo la gravel, uno e due, scendi ti prego, non è sceso, è rimasto lassù, mannaggia te, mamma mia ragazzi, cosa non si fa per un po' di oro, per un blocco d'oro, mamma mia, e nella cesta abbiamo una mera d'oro incantata, che prendiamo subito, al posto di questo, sì, pepite di ferro, ma in realtà non ci servono nemmeno tanto, no dai, bene a posto così, ragazzi, ragazzi, guardate cosa c'è là, guardate cosa c'è là, allora prendiamo un po' di girasoli, perché li voglio, abbiamo trovato ecco anche questi campi fioriti, mamma mia, prendiamo un po' di girasoli così per il meme, per far finta che non ci interessino i ciliegi, ma ragazzi abbiamo trovato i ciliegi, via questo, mamma mia, li abbiamo trovati, ora orriamo subito a prenderli, anzi prendiamo un altro po' di girasoli, non so se si possono farmare col bon meal, ma noi prendiamolo un po', tanto fino a uno stack possiamo tenerlo, e adesso ci dirigiamo là, a prendere i nostri ciliegi, anche là ci sono dei fiori, di là, sì, ci sono dei campi fioriti anche di qua, sì, guardate che bellezza, prendiamo un po' di questi fiori, e poi andiamo a prendere i ciliegi, questi arancioni mi sa che ci mancano, allora questi li mettiamo al posto qua dell'erba, ne prendiamo qualcuno così, poi cosa ci manca? Questi rossi, no, questi qua rossi non ce li abbiamo, mi sa, prendiamo un po' anche di questi, e li mettiamo al posto di delle mele, tanto anche queste non ci servono, che poi probabilmente tutti questi fiori poi li li avremo, per mettere i ciliegi, le cose dei ciliegi così, un altro alveare, ce lo prendiamo, prendiamo anche questo, ah, non va nello stesso slot, ne serve un altro? Alveare, alveare, ne servono, ok, allora in quel caso, boh, magari poi lo lasciamo, e basta, sono questi fiori qua, ok, magari qualcuno di questi bianchi, possiamo prenderlo, al posto di un alveare, ok, alcuni così, boh, tanto per, e adesso andiamo verso i ciliegi, sperando di non esserci persi, ma ragazzi adesso i ciliegi sono obbligatori, li abbiamo cercati per un episodio intero, adesso devono essere nostri. Ragazzi, la mia felicità in questo momento, cioè, vi prego. Allora, questi qua, li posso prendere, ok, li posso prendere anche a mani nude, perfetto, allora leviamo, eh, cosa leviamo? Possiamo levare le foglie, no, le foglie di azalea, no, queste qua ci interessano, perché di azalea non ce l'abbiamo, leviamo magari questi tulipani rossi, sì, però dovremmo levare un bel po' di cose, queste le prendiamo, questi fiori ne prendiamo tanti, tanti, non so quanti, ma tanti, perché poi non so quando ritorneremo qua, quindi un bel po' di questi fiori qua ci servono, sta facendo notte, e che facciamo? Dormiamo in questa valle incantata di ciliegi? Perché no? Cioè, mi sembra una buona idea. Abbiamo finito già lo spazio? Ottimo, ottimo, no, in realtà ottimo proprio per niente, leviamo, cosa leviamo ragazzi? Queste spade in pietra, mi sono dimenticato, vabbè, leviamo queste, e prendiamo i fiori, anzi, no, però non è no, è solo qua che c'è ombra, ok, allora non dormiamo, però adesso, prendiamo un altro po' di questi fiori, fino ad arrivare a due stack, più o meno, sì, e sì, quanto siamo? Allora, quasi, ok, con questo dovremmo essere, ok, due stack. Ora, ci servono gli alberi, anche questi li prendiamo, prendiamo pure le foglie subito, e, e poi ovviamente i sapling, anche quelli per forza, quindi distruggiamo un po' di alberi, giusto per prendere poi anche, foglie e sapling, ecco così, devo levare questo, che fastidio, e vabbè, a questo punto raga, io vi direi, leviamo la terra, cioè a che ci serve adesso la terra, spero più a niente, però, diciamo ecco, non è la nostra priorità, ne abbiamo fin troppa anche, quindi, ben direi che ce la possiamo far bastare, prendiamo magari, qua, un po' di questo legno, anche le foglie, subito con, con le cesoie, e ora però le foglie, dove le metto? Cioè devo levare per forza dei fiori, per forza, qua ne prendo un pochine, un po' tante, perché sì, sono belle, le possiamo fermare anche a casa, ma ne prendiamo un po' già ora, e cosa levo? Leverò questi tulipani arancioni, però, sono sincero, un po' mi scoccia, cioè, boh, vabbè, torneremo magari qua più avanti, se ci serviranno i fiori, chi lo sa. Allora, prendiamo tutte queste cose qua, sa, abbiamo già finito uno stack di foglie, sì, sapling li abbiamo, sì, quanti ne abbiamo? Tre, ci bastano tre? Non lo so ragazzi, aspettiamo magari un altro pochino e vediamo, però tutto sommato, appunto, ora che ci penso, le foglie possiamo farmarle anche a casa, quindi magari teniamoci i tulipani, che sono più rari da, da, da avere, diciamo, ok, e quelli rossi, non so dove siamo finiti, vabbè, aspettiamo un altro po', magari per qualche altro sapling, se, se casca qualcosa, e poi torniamo a casa. Quassù, ci può essere qualcos'altro di interessante, per quanto riguarda i ciliegi, o ho preso tutto? No, forse ho preso tutto, sì, probabilmente sì, di qua non ce ne sono altri, ok, abbiamo trovato un, un chunk piccolino piccolino con i ciliegi, ma ragazzi direi che va bene anche così, alla fine mi bastava trovarne alcuni, un po' di questi fiori qua per terra, e alcuni ciliegi, per poi portarli a casa e farmarli, tanto abbiamo tre sapling, quindi già tre ciliegi li abbiamo, se poi magari ce n'è troppo anche qualcun altro, non mi fa schifo, anzi, sarei molto contento, ringrazierei molto il mondo di Minecraft, ma mi sa che ci dovranno accontentare, boh, aspettiamo un altro pochino e vediamo, però cioè guardate dai, sono troppo belli, se riusciamo a fare quello che voglio fare io, come lo voglio fare, nella nostra base, viene veramente un lavorone, ragazzi, io direi che posso anche concludere il video, direi di sì, ragazzi, che dire, io da questa visuale vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, sì, abbiamo esplorato di nuovo, ci siamo stati un po', però abbiamo trovato cose molto interessanti, tipo roba dei funghi, abbiamo preso col tocco di velluto, alveare, pozzol, la zalea, la roba delle azzalee e così, dei grass block, dei fiori, nuovi che non avevamo, e soprattutto i ciliegi, l'obiettivo della nostra esplorazione, quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate, ricordatevi di lasciare like, commentare, condividere e iscrivervi al canale, devo sbrigarmi a concludere il video, perché state facendo notte, io vi ricordo ragazzi, che se vi state persi gli altri episodi della serie, trovate in descrizione la playlist con tutti gli altri episodi, a 1500 iscritti ragazzi, vi ricordo anche uscirà la mia top 10 manga anime, e niente ragazzi, tutto questo io vi ringrazio, vi saluto, e ci vediamo nel prossimo video, e adesso occorre a dormire, ciao ragazzi! Grazie a tutti!